Musica Oh 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 E buongiorno mi avete posto di OperatiGamers Come state? Spero tutto bene Oggi mi sento, aspettate? Ok si ho messo durante, oggi mi sento super felice Boh mi sono alzata bene Mi sono alzata molto molto bene E sono felice Tra l'altro stavo poco fa lavorando Alla copertina di un video Che sarebbe dovuto uscire sul mio canale Ma che ho preferito metterlo sul canale della Sabri Perché è un gioco a cui io sono legatissima Quindi non so se poi gli altri video Saranno messi su questo canale o sull'altro Ma se non avete visto questo video Andate sul mio canale principale a guardare i video di Life is Strange Che è un gioco che io amo Da tutta la vita ed è uscita la serie nuova Vi anticipo però che ci sono un paio Di parolacce nel gameplay dette proprio dal gioco E una scena di combattimento E però raga Io ho un gioco che amo quindi se non l'avete visto Andate a vederlo Perché raga è stupendo, è una storia che veramente Vi entra e ve la seguite tutta Comunque buongiorno Ci ho messo 20 minuti Per entrare in questo server ricco E appena sono entrata Venite pure Ho lasciato un attimino 10 minuti a FK Il mio personaggio Ho trovato 3 o 4 pussole Che non so come siano riuscite ad entrare Anzi no In realtà penso Che abbiano guardato tutta la lista dei server Abbiano trovato il mio omino Il mio pupazzetto E non so Hanno provato ad entrare nel server In qualche maniera anche loro con l'attesa di 20 minuti Siano riuscite ad entrare Venite pussole E allora gli ho detto Venite a salutarli al video Cioè venite che almeno vi saluto Però adesso non stanno entrando Pussole La casa è aperta Vado a prenderle io allora O sarò andata a farsi un giro Ah ecco stavano entrando Eccole venite pussole Queste sono pussole Molto molto educate Fan sabri Fan sabri Super pan sabri E poi ce n'era una Che aveva in testa Ciao sabri Non so se stai registrando Quindi non scrivo Ma se puoi salutami E quindi Ciao a Lulù il coniglio Daphne il conigliocci E Kimberly Nerina Dakota Eccola qua E anche a Fermamore che non riesco a vedere il tuo nome Carly Gro Vedete Oh my god sabri Non posso scrivere Se stai registrando Salutami nel video Ciao pussole Ciao piccoline Ciao 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 Ecco qui Allora l'ho scritto che lo salutate Che adesso andavo a far scambio Gli lascio la casa aperta Così se loro vogliono stare un po' in casa Possono Allora quello che vorrei fare oggi È provare ad avere un pet che non ho Anche scambiando qualcosa È vero che non li ho doppi Ho solo il coccodrino Ma ve lo regalo a voi Sto aspettando giusto un paio di giorni Cioè quando faccio il giveaway Voi mi avete suggerito nei commenti Di aspettare giusto un paio di giorni In maniera tale Da aspettare tutti Perché magari c'è qualcuno Che il giorno stesso Non può guardare il video Quindi aspetto un paio di giorni Potrei scambiare tipo un canguro È la fenice neon Potrei scambiare Oppure volevo vedere tipo Cosa offrono i ricchi per non so Un riccio Una roba del genere Dovrei aver preso Un server bello No davvero ci ho messo una vita a entrare E quindi speriamo Andiamo nei gift Non so scrivere Dalle emozioni Amori Quanto siete carini Intanto apriamo un gift Vediamo che cosa Troviamo in pumping Una Venus flap Trap Rattol Però non ce l'avevo Mi sembra Ma che cos'è un suonaglino Ah è tipo un suonaglino Vabbè a posto Allora Andiamoci a piedi Che magari ci porta fortuna Ciao Ciao Che carine Mi scrivono buon video Grazie Grazie Tutto Ho sempre questa roba Di teletrasportarmi Ma dai raga Potrei anche andare a piedi Ogni tanto Dove siamo In casa Aiuto Ma siamo proprio Da tutt'altra parte Che carina la casa bolla Mi piace un sacco Questa casa bolla Mi piace vedere le case Le persone È una cosa che mi perdo sempre Il negozio di ciambelle Devo finire la mia casa Da uno dei prossimi video E finirò la mia casa Ecco qua Tunnel to Adoption Island Che Jacopo mi ha insegnato Che se tipo vado qui Una roba del genere Riesco ad andare sotto Uno Tipo qua sotto Vedo le fondamenta Di Adopt Me Una cosa simile Ecco a proposito Dove cavolo siamo Raga Ma cos'è su Oh Avete visto anche voi No raga Stanno succedendo cose Vabbè abbiamo capito che Ups Sbaglio sempre Mi dovrò teletrasportare Io non mi ricordo più come si gioca Ma non funziona niente Allora vediamo un po' In che serve sono finita C'è quello che piace a me Il fenicottero La mucca neon Wow Uno shadow dragon neon Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Con un bad dragon Di fianco Due tartarughe Un frost dragon Questo penso che sia neon Però eh Guardate che roba Ehm Un cavalluccio Un unicornino Un'arena artica Mega No è neon Ma questo è un cagno Che carino Che carino Oh mio dio Allora ragazzi Vediamo se qualcuno vuole scambiare qualcosa Che bello il capibara Vediamo se sono attivi Chi può tradare con me Tutti Perfetto Iniziamo da unicornina 2104 Però voglio capire Che cosa vorrebbe tradare Perché io inizierei Ehm Mettendo per esempio Il riccio Però lei mi offre Un golden unicorn Quindi direi che assolutamente Non vale questo scambio Vediamo E add Aiuto Soso 2000 Saif Un Bello 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 Ma non Non vale il riccio Non penso che li valga Possiamo fare una cosa bella Quindi metterci qua Ehm Mettiamo il riccio Mi piace molto il dalmata neon Eh Lo posso dire Però non penso che davvero valga questo trade Dalmata Neon Ok In realtà è un win È un win Ma non Mi stanno arrivando due milioni di trade È un win Era un bel win Hmm Cavolo Non lo so Non lo so Era un bel trade Voi cosa avreste fatto? Mucca neon No per il riccio Non mi interessa anche perché la mucca neon ce l'ho Cosa avreste fatto? Avreste tradato il riccio per il dalmata neon? Io ero un poli lì per farlo Ehi signore Allora mi avete detto ragazzi Sabri quando ti interessa qualcosa Buttati e prova a scambiarla tu Avete ragione Avete ragione Puoi offrire Questo qua ha un uovo rosa Vediamo cosa posso offrire Ok Aspetta Vediamo cosa posso offrire per un uovo rosa Vale come l'ornitorinco che non ce l'ho Varrebbe come un canguro l'uovo rosa Però poi il gatto Ok Vale come un elefante Non so Proviamo a fargli un trade Vediamo che cosa gli potrei offrire Io gli posso offrire Un Christmas egg Che però vale di più il Christmas egg Del pink egg Guardate Sono sopra perché vale come il blue egg Guardate Sono sopra io Aspettate vi faccio vedere anche voi Guardate lui mi sta offrendo un 14 Io invece gli sto offrendo un 12 Ma bel cesca Che cosa vorrebbe Le mettiamo il riccio Perché mi sa che lei vorrebbe provare a traddare il riccio Vediamo un po' Oh Quello che piace a me Però il riccio sta sopra di due Quindi No guardate comunque Il dalmata era 8 Riccio 7 Ci ha messo anche uno squalo E un gufo Eeeh No 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 Cioè Sì in realtà poteva anche andare Lo squalo Il gufo Eeeh No Che carina Ah Signore Signore Voglio provare a offrire qualcosa io Vediamo E questo non me lo farà mai Due Ce ne sono Secondo voi Allora E un 2 Li potrei mettere No raga Non ho niente per pareggiare Non ho proprio niente per pareggiare Sennò ci avrei provato Devo ancora avere Dei pet migliori Per il Batragon Giuggi 10 12 Oh quanti metalox ho No grazie tesoro mio Cioè in realtà non so Cioè so che c'è qualche fan Perché è riuscito ad entrare Ma penso che c'è tanta gente Che non sa chi sono Oh Quanto bello Il pappagallo Oddio è stupendo Hanno fatto una roba bellissima Del pappagallo neon Anche tu signore Parlu 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 Vediamo un po' Muccanion Ce l'ho già Grazie Can I offer No io voglio offrire Io voglio offrire per questo unicorno Allora Allora Apriamo così No 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 Gli provo a fare l'offerta io Vai Allora 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 Capiamo 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 L'unico Il fenicottero rosa Aspetta Aspetta Non mandare via Io gli posso mandare Abbiamo detto che il fenicottero è 9 Ehm Qualcone Ah la tartaruga è sotto Però la tartaruga io non vorrei scambiarla Perché è quella neon Questa camera ha regalato una fan Allora Koala Spe Spe Wait Koala Che il koala sta Sta bello giù Non ti sento niente Frega niente Devo dargli qualcosa di forte Ehm Christmas egg Che sta Al 12 Tu stai al 9 Aspetta 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 Ehm Koala Christmas egg E King B Provo così Ok Declinato Fantastico Il mio primo trade che ho provato a fare È andato uno schifo Che gioia Non vedevo l'ora Non vedevo l'ora Non vedevo l'ora Poi Andiamo avanti Proviamo a trovarne un altro Forza 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 Ehm Signori Anche qua Prova a farlo lei Ah è quella di prima Che però voleva Eh voleva il mio Riccio Riccio è un porco spino Non penso sia un riccio Vediamo se c'è qualcosa che ci ispira Anche questo qua Tradda il riccio Allora devo cambiare Devo cambiare Perché se tradda il riccio Non va bene Provo col jungle Il jungle a che punto sta Il jungle sono sopra io Ed è il riccio Ragazzi Sicuramente potrei avere un fenicottero Per il jungle Sì Perché sono sopra io Ok Scriviamo che lo traddo Pick up Forza forza Questo c'ha il Gufo civetta Gufo civetta Ormai raga lo chiamiamo Gufo civetta Così lo capiamo Allora questo Vuole provare A farmi un bel trade Non lo vorrei Proprio per niente L'unicorno Neon Mi dai frost Fury Ma ce ne ho già 4 Da finire per far Neon Quindi no grazie Ma questo è un mega Wow Mega capibara Con lui Con il capibara in testa Con un piccolo capibara in testa Che carino Un lama Ce l'ho L'ha tolto Un ginger cat Davvero No grazie Vediamo renna artica Dove sta Ma raga 7 Quindi sono comunque sopra io Alla renna artica Wow Che bello Vale tantissimo Questo uovo Signori 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 miei Goldorn Ce ne ho uno Questo coso Che bello Il corvo neon Chissà quanto vale Ragazzi Vale tantissimo 4 corvi Sarebbero 4 da 6 Vale davvero tanto Mi piacerebbe molto averlo Niente signori Nessuno vuole tradare un jungle egg Raga non so se giocarmela E provare Dove sei andato Uh Stanno provando a scambiare Non penso Il Fenicottero con lo shadow dragon C'è con lo shadow dragon Con il frost Il frost al 4 Vale come un safari Riprovo Ok Sta interagendo con qualcuno Perfetto Riproviamo Ok Fermi Ciao sabri Ciao amore Li mettiamo Gli avevo già messo prima il Christmas Eh il jungle Signore mio Sono sopra io eh 9 e 6 Cioè Sono sopra io Quindi dovresti accettare Ok Manda la prima spunta Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Non accetterà mai Penso che non accetterà mai Accetta 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 Ti prego Ti prego Accetta Ti prego Ti prego Ti prego Accetta Ha accettato Ti prego Ti prego Ti prego Non ti baggare Non ti baggare Oh si 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 Scusate ho avuto per un attimo paura Uh Vediamo serpe 112 cosa mi manda Io gli mando un Christmas Magari vuole No 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 che brutto Raga 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 Un secondo Un secondo A zero il personaggio Oh oh Flamingo Fully Fully Che bello Ma è ride o fly È ride Ah già giusto Oddio quanto è bello Oddio mi piace da impazzire Nonostante in realtà In base al sito non ho fatto giusto Nel senso che Ero molto sopra io Cioè avrei potuto scambiare addirittura Il jungle egg Per un'arena artica O per una scimmiape O per un riccio E allora Però mi avete detto giustamente una cosa Mi avete detto Sabri non guardare anche troppo il sito Guarda un po' quello che piace a te E fai un po' quello che ti piace Quindi è vero Avete ragione Non devo solo guardare il sito Ma devo guardare un po' quello che piace a me Quindi adesso vado un po' a sveggare Con i miei pedicatteri rosa Oh mio dio Si 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 Quanto bello Quanto bello Quanto Oddio vorrei troppo questo Raga qualcuno di voi I can end after 5 more legs Ok vi volevo chiedere questa cosa Qualcuno di voi è mai riuscito a fare Un trade Con un No guardate come vogliono Già No questa è una fan Mister flamingo Mi ha mandato una richiesta Vediamo cosa vuole Mister flamingo Eh io non ho più il pet Vorrebbe il flamingo Ma tanto non te lo do Ma non ci pensare proprio Mister flamingo Si è riuscito a ottenere il flamingo Si Ho dovuto dare il Jungle Ma vabbè Si vede che questa fusola Ha visto uno dei miei ultimi video Dove cercavo il flamingo Si 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 Che bello Quanto ti fate per me Brava E dicevo Volevo sapere Se qualcuno di voi È mai riuscito a fare Trade importanti Come per esempio Bat Dragon Frost Dragon E in tal caso Per cosa le avete scambiati Me lo potete scrivere Per favore Qui nei commenti Mi piacerebbe tanto Questo corvo Oh c'è ancora questo Joker C'è ancora questo Joker Che va Il pink egg Io tra l'altro Ce l'ho Il Il gatto rosa Guarda Te lo faccio vedere Che ce l'ho Me l'ha dato un fan Tipo nel mio primo episodio Beh Forse posso scrivere pink Io ce l'ho Io ce l'ho Com'è che si chiama Cecirina Guarda che io ce l'ho Vedi che ce l'ho Ce l'ho Però raga quanto è bello Il mio fenicottero Ma che voi sappiate Si possono mettere qua Un po' in ordine di qualcosa I pet nei preferiti O no Perché io raga sto imparando a giocare Lo sapete E quindi mi dovete dare voi Un sacco di consigli Mister Flamingo Non te lo do il mio Flamingo Non te lo do Il mio Flamingo Ride Ciao 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 Kimberly mi manda un trade Kimberly è una fan Che ho beccato prima Vediamo che cosa vuole tradare Io vorrei farle un regalo Anche io voglio farle un regalo Allora lei manda un regalo E allora io le mando Ma quanti regali mi stai mandando? Io allora ti mando il regalo Aspetta che ti faccio anch'io un bel regalo Un Un Kirin Così almeno abbiamo fatto un po' Uno scambietto Che carini che siete abori Siete troppo carini Adesso li apro subito questi regali eh Sabri mi saluti Ciao abori Non ti ho salutato prima? Non posso vedere il tuo nome Ludo fan Sabri Ciao Ludo Allora vediamo un po' Apro i miei regali Portatemi fortuna Allora disattiviamo un attimino Trade Gift E chi Ah ma sono quelli giganti Mi ha mandato Cosa mi si è aperto? Non vedo niente raga Sto Sono buggata Ma raga avete visto anche voi? Ah ok Un uncino Mi piacciono gli uncini Sono delle cose che preferisco Raga ma perché sono tutta buggata? Poi secondo regalo Fortuna a Sabri Fortuna a Sabri Comunque mi è uscita una cosa rara Ultra rara Che cosa è che mi è uscito? Che carino Ma questo qua cosa serve? Non serve Non è quello per volare? No non è quello per volare Fortuna Ok apriamo l'ultimo Oh Oh Vai 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 Qualcosa super bello Raro Va bene Un altro uncino Uc Dovrebbe essere quello Ma Raga non mi funzionano Vabbè sparerò Bam 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 Rampino Rampino Mi spiace non ti è venuto il leggendario Va benissimo così Sì grazie Mi date un soprannome per questo flamingo? Sì io sono quella maga dei rampini Niente ragazzi questo video è andato molto molto bene Cioè non lo so Mi è venito tra pozza Non lo so se è andato molto molto bene Cioè per me sì Per voi non lo so Ma lo dovete scrivere nei commenti Io saluto tutti i grandi amori Che sono stati qui con me Ciao amori Grazie per aver giocato con me E niente Voglio sapere da un vostro Dai vostri commenti Se comunque per voi Ho fatto bene a scambiarlo Oppure no Vi mando un bacio grande 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 Ci vediamo domani Con il prossimo video Ciao amori miei Ciao Vi amo tanto Ciao amore Grazie a tutti